Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Barbara D'Urso, una delle conduttrici più note e chiacchierate di sempre Siamo abituati a vederla con abiti super appariscenti, ma l'avete mai vista con pantofole e grembiule? Sembra un'altra persona, davvero irriconoscibile, vediamo com'è Barbara D'Urso.Barbara D'Urso, rappresenta uno dei volti più importanti e noti del panorama televisivo italiano Ogni volta, nei suoi programmi la vediamo con abitini, tacchi e make-up molto marcato, ma quando torna tra le mura di casa sua è una persona comune come tutti noi, vediamo come si concia quando svolge le faccende domestiche, rimarrete a bocca aperta Barbara D'Urso come non l'abbiamo mai vista. Amatissima e allo stesso tempo molto criticata, Barbara D'Urso è uno dei volti più conosciuti del mondo dello spettacolo italiano Nel corso degli anni, con il suo carisma e il suo sorriso ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori La famosa presentatrice Campana viene spesso attaccata sul web per il suo modo di condurre e anche per i contenuti dei suoi programmi Sul social, in particolare su Instagram, dove è molto attiva, riceve diversi commenti negativi Ma la D'Urso non ha mai risposto ai suoi haters, ha sempre continuato per la sua strada a testa alta ed è proprio grazie a questo atteggiamento positivo che ha raggiunto il successo e l'affetto del pubblico Barbara D'Urso alla pupa e il secchione show.Ha già superato da qualche anno i 60 anni, ma Barbara è inarrestabile Siamo abituati a vederla sempre in forma, curata, con indosso tubini stretti e scollati, per non parlare dei suoi tacchi vertiginosi Ma l'avete mai vista in versione casalinga? Rimarrete a bocca aperta Barbara D'Urso in versione casalinga, video.Come abbiamo già rivelato, Barbara D'Urso è davvero molto attiva sui social Diverso tempo fa, la conduttrice ha condiviso un filmato su Instagram in cui si è mostrata in versione casalinga Il video è diventato virale e in pochissimo tempo ha fatto il giro del web La bellissima Carmelita, per spolverare i mobili, ha deciso di indossare un grembiule e delle pantofole pelose di color rosa Punto una scelta di stile che ha fatto impazzire tutti. Non capita mai di vederla vestita in questa maniera Il filmato ha ricevuto diversi commenti negativi, ma i suoi fan più accaniti hanno apprezzato il fatto che Barbara abbia condiviso questo momento così privato della sua quotidianità Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao